SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, anche questa settimana una puntata tutta da vivere a fil di cielo con sci e scarpette a trail running. Il successo da record alla Patrouille de Glacier al fianco di Matteo Eidalin e Robert Antonioli gli è valso il primo posto nel circuito di La Gran Corsa. La Magic Season di Michele Boscacci non poteva terminare in modo migliore. Si è conclusa questa PDG, è un gran finale di stagione, con il mio team Robert e Eida abbiamo vinto questa gara, siamo veramente soddisfatti perché dal primo all'ultimo metro siamo rimasti al comando. abbiamo preso subito come ho detto il comando e abbiamo forzato e preso iniziativa perché qua non si capisce bene come si è messi, visto che c'è tanta gente da sorpassare non si possono fare calcoli, bisogna spingere al massimo, non si hanno punti di riferimento né se ci dovesse essere bisogno su chi ti precede oppure su chi ti insegue perché è un continuo a sorpassare gente che parte avanti e quindi bisogna cercare di fare le cose nel migliore dei modi senza commettere errori. Oggi per noi è andata benissimo, sono veramente soddisfatto di aver concluso così la mia stagione e sono veramente soddisfatto di aver fatto anche il record di questa gara che apparteneva agli svizzeri che era stato fatto nel 2010. Divino Ziola trail running nella prova marathon successo di Luca Miori e Lorenza Beatrici. Questa è la gara di casa appunto organizzata anche dalla società Fraveggio di cui faccio parte, passa appunto nella valle di casa, la valle bellissima per la corsa, in collina e oltretutto si passa anche nelle cantine tipiche, una giornata bellissima, preestiva, sicuramente questo caldo ha un po' influito nella seconda parte rendendola più faticosa e ho gestito la mia gara con il mio ritmo e sono soddisfatto. Il tempo è stato un po' superiore all'anno scorso, sicuramente ha appunto influito anche il gran caldo. Non me lo aspettavo a dire la verità, sono sempre un po' timorosa, infatti sono partita con cautela, i primi 10-15 km ho guardato di gestirmi bene perché è un percorso lungo, abbastanza impegnativo, caldo, però tutto sommato a un certo punto della gara, diciamo a metà, ho capito che stavo bene, non ho sofferto particolarmente il caldo perché è abbastanza ventilato, sono soddisfattissima, il percorso è meraviglioso, la giornata è stupenda. Skylakes, tante novità e nuova data per la terza tappa del circuito La Sportiva Mountain Running Cup 2018. Skylakes 2018, terza tappa La Sportiva Mountain Running Cup, tantissime novità a partire dalla data, si correrà il prossimo 24 giugno a Laghi, in provincia di Vicenza. Abbiamo aperto le iscrizioni lo scorso 1 marzo e abbiamo già registrato 600 iscritti dei 700 pettorali a disposizione. Una delle novità del 2018 sarà il Mini Trail, gara dedicata a 150 bambini dai 7 ai 12 anni delle scuole limitrofe a Laghi. Ci vediamo a Laghi il prossimo 24 giugno. Buone corse! A metà giugno, a Lanzada, nel cuore della Val Malenco, andrà in scena il mondiale Under 18 di Corse in Montagna. Sabato 16 giugno, Lanzada, sarà la capitale della Corse in Montagna a livello mondiale per quanto riguarda la categoria Under 18, ovvero per gli atleti nati nel 2001 e 2002 e sarà anche la capitale a livello nazionale, in quanto c'è il campionato per regioni a livello italiano per l'Under 16, ovvero per gli atleti nati nel 2003 e 2004. Ritornando al campionato mondiale, definita come Yacht Cup 2018 per gli Under 18, sarà un evento veramente importante per Lanzada, per la Val Malenco, per la Valtellina e per l'intera nazione, in quanto i migliori atleti saranno a Lanzada per cercare di sfidarsi, cercare di dare il meglio delle proprie possibilità per portare in alto la propria nazione. Si presuppone di avere una quindicina, 16 nazioni al via e vinca il migliore. Anche per questa settimana è davvero tutto, il nostro consiglio in gara non cambia, sognate, osate e non mollate mai! SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Sì! AN N i